Mira a realizzare una pubblica amministrazione che nei suoi procedimenti e servizi diventi più efficiente, meno burocratica e più snella il piano triennale di semplificazione 2016-2018 approvato dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria nella seduta del 3 maggio scorso. L'atto proposto dalla Giunta regionale ha ottenuto i voti favorevoli della maggioranza di centro-sinistra, Partito Democratico e Socialisti, e dei gruppi di Forza Italia e Ricci Presidente e l'astenzione dei rappresentanti della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle. Le azioni strategiche che saranno attuate sono innovazione, trasparenza e partecipazione, diminuzione di tempi e costi a carico di cittadini e imprese. Nel dibattito in aula sono intervenuti smacchi del Partito Democratico, Carbonari del Movimento 5 Stelle, Ricci del gruppo Ricci Presidente, Nevi di Forza Italia, Mancini della Lega Nord, Berometti dei Socialisti, De Vincenzi del gruppo Ricci Presidente e Liberati del Movimento 5 Stelle. Da parte di tutti, con accenti diversi, sono state valutate positivamente sia l'impostazione che i contenuti del piano, ma è stata anche posta la necessità di attuare concretamente in tempi rapidi quanto previsto. Altra questione posta è stata quella di incrementare la qualità del lavoro dei funzionari dipendenti, applicando seri criteri meritocratici attraverso premialità e verifiche di risultato. Un punto quest'ultimo specificato in un ordine del giorno proposto da Leonelli del PD e approvato all'unanimità. L'assessore Bartolini nel suo intervento ha assicurato che la Giunta ti racconto delle sollecitazioni migliorative del piano di semplificazione triennale, che rappresenta un documento di metodo da attuare attraverso un'attenta verifica e valutazione dei risultati.